Ohi Max, benvenuto! Ok, grazie di avermi invitato. Figurti, grazie mille per essere passato. Guarda, come da tradizione ti farei fare giusto una piccola intro su chi sei, cosa fai, così che almeno tutti si fanno un'idea prima di cominciare. Allora ragazzi, cosa dire? Io sono Max, della Pro Evolution Fight, sono un coach di striking e mi occupo principalmente al punto di kickboxing, K1 e box. Ok, perfetto. Ma senti, per riprendere giusto il discorso adesso, perché è uno che mi interessa tantissimo, che abbiamo appena fatto fuori dalle telecamere, ma a livello nostro italiano, parliamo di panorama MMA a 360 gradi, non solo UFC, Ho avuto anche il piacere di avere diversi fighter che sono stati qua ospiti, i nostri italiani che combattono un po' dappertutto, Bella, Thor, Alte Division, e tutti mi dicono la stessa cosa, cioè che a livello italiano manca qualcosa in termini di spinta o di promotion, rispetto a quanto invece vedi che spingono. Lascia stare America o Brasile, che ormai sono anni luce avanti, ma già anche posti come l'Inghilterra, che vedi che sforna comunque campioni e fighter incredibili, o la Francia, come vedi Sirilgan e altri fortissimi che arrivano, la Russia. Secondo te, visto che ne hai visto un po' di cotte di crude, cos'è che manca a livello italiano un attimino? Ma allora, innanzitutto ci vuole anche una mentalità diversa che noi facciamo fatica ad avere, e poi io ho visto una realtà diversa in che senso? Devi calcolare che quando sei in quei posti là, invece di dieci fighter ne vedi mille, invece di dieci coach ne vedi centomila, e quindi su una quantità esiste la legge dei numeri. Poi è vero che lì c'è tanta qualità, però per fare tanta qualità devi avere tanta quantità, e quindi lì ci sono numeri diversi che noi non abbiamo. Quindi, per esempio, lì vai in tutte le palestre, ci sono tutti i coach qualificati, ogni palestra c'ha i suoi quattro, cinque, sei campioni, cose che magari qui facciamo fatica ad avere. Magari qui c'è uno bravo, un campione in Sicilia, ce n'è uno in Lombardia, l'altro in Emilia-Romagna, e quindi si fa anche fatica a collaborare. Anche perché qui comunque per fare questo sport non girano soldi purtroppo, e quindi uno si deve sempre arrangiare, e non sempre può cercare il meglio, perché comunque spostarsi è un costo, quindi questo è il problema secondo me che riscontro qui in Italia. E poi magari dici che tanti cercano anche una soluzione poi all'estero, no? Cioè magari se questa è la strada che vogliono prenderne la vita, dicono cavolo me ne vado nella palestra al top team di turno in America, che almeno ho dei contesti così, con dieci campioni con quelle in armi ogni giorno, con una mentalità diversa. Il problema è proprio anche questo dello sparring, al di là anche dei coach, anche lo sparring in questo sport è fondamentale. Lì ogni palestra ha tutti i pesi, ha tutti gli atleti di varie nazionalità, e quindi ti puoi anche confrontare con atleti che hanno, come si dice, hanno... Sì, sono di un calibro proprio... Sì, oltre al calibro hanno delle caratteristiche diverse tra di loro, e quindi puoi solo migliorare, perché vai con quello più alto, vai con quello più basso, sempre dello stesso peso, vai con quello che è più forte a terra, vai con quello che è più forte in piedi, cioè quindi sai cosa vuol dire? Lavori con dieci atleti diversi di alto livello, vedi tu, ti sei già risposto. Sì, sì, migliori per forza. Qua invece il livello non è che sia basso, però è raro trovare palestre dove hanno tanti fighter di livello alto. Magari trovi una palestra che ha cinque fighter, però quattro normali, diciamo, di un buon livello, ma poi quello di livello veramente alto è uno. E quindi per migliorare, se non vai con uno più bravo di te, è difficile. Bravo, è difficile che migliori. È perché prendendo anche un esempio di quello che parlavamo poco fa, a Marvin, comunque tu ti alleni con lui da quanto tempo ormai? Eh, sarà già un sei anni ormai. Un sei anni. Comunque a livello italiano, anche se bisogna dargli qualcuno con cui lottare qua nel nostro panorama, c'è qualcuno che gli dia del filo da torcere dove lo dire fuori. Bravissimo, ma io ti dico la verità, quando sono entrati in questo mondo già all'inizio con Marvin, la prima domanda è, ma perché devi andare là? Ma vieni qui in Italia, stai qui, facciamo qui. E mi diceva, eh Max, ma non è la stessa cosa. E io, ti dico la verità, all'inizio non capivo, dico perché, ma perché. Poi, dopo anni che sono lì in America, che abbiamo girato varie realtà e varie palestre. E sei andato anche tu con lui poi in tutti questi posti. Sempre, sempre. Ho fatto Los Angeles, Las Vegas, ho girato parecchio. E poi ho girato tante palestre con lui. E dopo ho detto, adesso ho capito. Però ci ho dovuto mettere due o tre anni per capire che lì è tutto un altro mondo. Giustamente all'inizio, abituato alla realtà qua in Italia, non capivo che differenza c'era. Poi con gli anni l'ho capita. Ed è una differenza mostruosa. Cioè, io sono abituato ad andare con lui a fare sparring o allenamenti con i migliori che esistono in questo sport. E quindi è tutto più facile. Se ti alleni sempre con i numeri dieci al mondo, è normale che cresci. No, no, è una conseguenza diretta. Bravissimo. Ma anche perché poi quando sei lì alla fine nell'ottagono a combattere, cioè quello che ti stai trovando è semplicemente un altro body type, un altro tipo di corpo, però a livello di qualità e di capacità l'hai già fatto per gli ultimi mesi con gente che sa anche imitare probabilmente. Molto bene. Ma te ne dico un'altra. Magari devi girare con il dieci al mondo nel ranking e tu ti sei sempre allenato con il numero quattro, numero cinque, numero tre. Sai cosa vuol dire? No, che vai con una confidenza. Ma anche a livello mentale ti aiuta molto. Quindi, cosa dire? Poi lì lo fai proprio di lavoro. Cioè, ti svegli e fai quello. Sì, sì. Mattina, pomeriggio e sera. Due allenamenti al giorno, dal lunedì al venerdì. E sabato solo un allenamento. Ma lì come funziona? Cioè, tu sei il suo coach di riferimento e quindi se dovesse andare a fare anche diversi periodi tipo qualche mese in America appoggiandosi su un'altra palestra e così, tu lo segui e rimani tu il suo head coach o ti unisci al coach della palestra lì e insieme? Allora, mi unisco agli altri coach perché comunque devi avere alle spalle un team qualificato e di alto livello se vuoi rimanere nei giochi di alto livello. Certo. E come funziona? Allora, prima fuori dal match, fuori dal camp andavo più spesso, tre, quattro volte all'anno e facevamo dei lavori di mantenimento, dei lavori che durante il camp non puoi fare. perché durante il camp, che dura circa 60 giorni, devi lavorare tanto nello specifico. E ultimamente andavo solo per i camp anche perché anche per me spostarmi non è che sia così semplice, ma non tanto a livello economico ma anche perché anch'io ho un'attività, ho da seguire i miei ragazzi comunque. E quindi io andavo per i camp che dura circa 60 giorni e andavo lì e mi univo al team, quindi al team vuol dire all'head coach, c'è un altro coach di striking, il coach di lotta e il preparatore atletico. L'inglese come te la cavi? Malissimo, malissimo. Non l'ho mai capito perché, ma sai perché? Perché sono stato tanti anni là, ma il problema è che quando vai lì e sei con un italiano, purtroppo parli italiano. Parli italiano. E quindi... Che Marvin l'ho sentito nelle interviste parla molto bene l'inglese. capire molto bene dai fighter, anche perché sai, una volta che sei lì ti inserisci anche con gli altri fighter, cioè comunque a furia di vederti lì, lui si allena anche con tanti fighter, poi si instaura anche un certo tipo di rapporto e quindi ho avuto anche il piacere di allenarmi e di allenare anche altri fighter di altissimo livello. Sempre UFC caliber, no? Sì, 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 sì. Proprio ne ho allenati proprio tanti. Tanta roba. E lì secondo te, sempre tenendo Marvin, che alla fine c'ha uso lui come punto di riferimento, perché come dicevamo, cioè più alto di Marvin a livello italiano non abbiamo ancora ad oggi nessun riferimento di quello che è stato fatto, no? Cioè abbiamo Petrosian, però in un altro ambito che è devastante, ha fatto cose incredibili, numero uno. Però UFC, MMA, abbiamo Marvin. Ehi, ma sai anche qual è il problema dell'MMA in Italia? Nel senso, vedi, K1 è molto più semplice, nel senso devi allenare solo in piedi. Sì. Ma quando ti trovi ad allenare tipo in MMA, a terra, in piedi, preparazione fisica, quindi devi avere più realtà e quindi ci vuole un team. Ma dove trovi in Italia una palestra, dove trovi il migliore di lotta, il migliore di strike, il miglior preparatore? È questo che si fa fatica. Sì, è vero. È tutto qui. Non è che noi... Perché devi andare a prendere in diverse realtà, no? Bravo. Cioè con te striking, poi devi andare in un altro posto per fare grappling, in un altro posto non ti passa più così. Non è tanto quello. Uno che magari non ha lavoro, non ha possibilità economiche e vorrebbe arrivare. Magari ha anche un talento. Magari c'è anche tantissima voglia. Ma come fa a dire due volte a settimana devo andare dove? Ah, da Max a Milano. Ok. Due volte a Roma per fare lotta. Ah, ok. Il preparatore ce l'ho. Partono 500 euro di benzina al mese. E ci sta anche, ma ci sta anche. Poi combatti qua in Italia ti danno 30 euro. 30 euro, esatto. Di che cos'è che stiamo parlando? Come facciamo a crescere? No, no, è vero. Non c'è un buon investimento in questi sport. Tutto qui. È molto, molto semplice. Eppure mi sembra che il seguito ci sia in teoria anche qua in Italia. Cioè sempre più persone le vedi che se gli fai prod di meno. Sì, però è tutto a livello amatoriale comunque, capito? Sì, è amatoriale. Quindi anche i promoter riescono sì a organizzare, però a livello amatoriale è un discorso. Addirittura fai anche pagare per iscrivere, cioè per combattere e quindi loro ci stanno dentro ma se tu vuoi alzare il livello e cominciare a chiamare professionisti me li devi pagare. E allora lì l'inghippo. È lì che dopo dicono eh ma se prendo tre, quattro, cinque professionisti di alto livello li devo pagare. E dove vado a prendere i soldi? No, no, è vero. È sempre lì siamo. È un cane che si morde la coda qua in Italia. Sì, sì. Che è la cosa che mi hanno detto un po' anche gli altri che si sentono che è la verità. È la realtà. La realtà. Non è una questione. Non puoi girarci intorno. Sì, sì. Non è una questione che noi siamo inferiori o meno inferiori. Il problema è che qua ci sono cento fighter e magari quattro, dieci sono di livello ma li devi andare a cercare in tutta Italia. Là cento fighter li trovi in una palestra. In una palestra. Su cento fighter dieci, quindici sono buoni in ogni palestra. Eh sì, eh sì. E poi ti trovi quelli nella stessa palestra quello che combatte in UFC quello che combatte in Bella Certo, in PFL ma scherzi ma sì. C'è un altro mondo un altro mondo dove ti giri ti giri cioè io sono stato tanto tempo anche l'extreme l'extreme couture di a Las Vegas e porca miseria un'altra storia ma dai lì fanno due volte a settimana sparring e minchia magari sei lì sei il numero 15 ti trovi a fare sparring con il numero 3 easy 5 da 3 con i guantini senza caschetto sì sì cioè due volte a settimana l'incontro che sei se hai fatto bene lo sparring ti dà una bravo ti dà una carica a livello mentale che è pazzesca dici ci sono cioè numero 3 al mondo ho fatto 15 minuti dando dei bei colpi perché non è qualcuno bravissimo anche se sei il numero 15 ti senti come come al numero 5 al numero 1 perché comunque lotti e non ti senti inferiore agli altri atleti di alto livello no no assolutamente un altro mondo cioè entri in un altro proprio in un'altra realtà e lì a livello a livello puramente dell'occasione che ha avuto Marvin per il titolo con Adesagna dici che è andata proprio di sfiga a beccarsi un combattente con uno stile come quello di Adesagna o dici che se fosse stato qualcun altro se la sarebbe potuta portare a casa ma sicuramente secondo me se non era Adesagna se la poteva giocare molto di più che lì poi Adesagna era nel suo momento ma soprattutto Adesagna ha uno stile che non è il problema che crea a Marvin ha creato a tutti i fighter che esistono adesso ultimamente probabilmente Adesagna è anche un po' è calato poi con gli anni magari qualcuno ha cominciato a capire come muoversi hanno preso un po' anche di più il suo stile però come vedi anche con Pereira dopo che ha perso alla fine del quinto round dopo che stava vincendo è tornato indietro l'ha messo KO al secondo quindi c'ha i due palli stiamo parlando lì un fenomeno esatto un fenomeno hai detto proprio il giusto anche perché da quant'è che non perdeva quante volte ha difeso anche perché poi Marvin e dimmi cosa ne pensi mi è sempre sembrato uno solido di testa mi dà l'idea di uno che quando è il momento showtime va lì con quell'adrenalina e paura che tutti hanno positiva ma poi è carro armato della sera e sono lì faccio quello che faccio sempre Marvin ormai lo conoscono tutti e sanno che è come andare contro un cemento armato lo sanno tutti ma lo sanno anche quelli della UFC proprio sì sì certo cioè non è bello incontrare uno come Marvin comunque perché uno che ha un mento d'acciaio un collo pazzesco non molla non molla mai c'ha una mentalità vincente e poi è sempre preparato non ho mai visto un Marvin che non è preparato cioè comunque è sempre preparato sia a livello fisico che mentale Marvin è uno che se è vero non lo vedi mai fuori forma poi anche tra una fight e l'altra anche se vedi delle foto delle cose cioè è sempre che ti fa capire che si allena costantemente bravissimo Marvin purtroppo non è che lui finito il match non è che si prende due o tre mesi di pausa finito il match se si prende 48 ore è già tanto nel senso una settimana poi ritorna a allenare c'è di nuovo la gaina che riparte ma no non ce la fa ce l'ha proprio dentro Marvin Marvin è l'atleta che tutti sognano ma anche soprattutto a livello mentale eh si lui comunque pesi media ai 185 libri lui è 98 chili fuori fuori gara e combattere ma neanche tanto un 5-6 chili nella norma si si poi adesso sai con gli anni si conosce quindi è molto easy sa come fare capito soffre sempre di meno anche se è sempre brutto fare il taglio per un fighter si si tu ti dico è la roba peggiore è il match peggio che puoi fare il tuo peggior nemico secondo me è il taglio del peso poi ci sono alcuni che tagliano delle quantità che io non riesco a capire su corpi già tirati capisci cioè non è che dici che è il Daniel Cormier di Tuno ti ricordi quando combatteva che c'aveva almeno 30 chili extra che dici lui potrebbe combattere ai pesi medi se lo metti a regime per 6 mesi con la dieta giusta da quanto di statura però c'è allora c'è anche da dire molto che molti perdono tanto perché proprio il loro corpo glielo permette quindi ci sono tanti che magari perdono pochi liquidi e molti che ne perdono tanti di più io ho seguito anche Amedoski di USA un fighter della Madonna anche lui mi devi credere io l'ho seguito tanto e bene peccato che non è riuscito a esprimersi in USA perché veramente io gli ho visto fare anche gli sparring anche con lo stesso Marvin con Strickland l'ho visto fare sono cose incredibili madonna è veramente forte peccato che purtroppo poi quando arriva il momento arriva il momento vuoi per un momento bruttissimo quando negli sport succede sta cosa molto brutto perché è un talento naturale io ti dico l'ho seguito tanto l'ho seguito 2 barra 3 match in USA è veramente un atleta che merita tanto purtroppo non è riuscito a esprimersi ci sono tanti fattori che vabbè inutile adesso parlarne qui sai col senno di poi però ti dico che è uno che poteva dire la sua ad alti livelli secondo me però è inutile stare qui a dire con i ma non vai da nessuna parte esatto è giusto guardare in faccia la realtà è andata così tutta esperienza mi dispiace solo perché lo conosco e meritava meritava qualcosa di più perché io vedo anche il retroscena quindi sai è facile giudicare dal divano ed è giusto così però io che l'ho seguito ho visto quanto butta il sangue negli allenamenti l'ho visto allenarsi anche in condizioni pietose magari anche con degli infortuni e un altro che ha la testa dura purtroppo è andata così vabbè peccato però si va avanti è per forza si va avanti ma ascolta invece se ti arrivassi da zero un ragazzo che ti fa senti Max il mio sogno nella vita è diventare campione UFC quindi voglio diventare voglio alzare quella cintura in qualche modo sparto da zero ragazzino quindi stiamo parlando di uno letteralmente a 12-13 anni che ancora il corpo si deve formare a zero consapevolezza di da cosa lo fareste incominciare innanzitutto è una domanda che non mi pongo perché non lo troverai mai uno al giorno d'oggi che viene e dice quello che tu hai detto sarebbe un sogno possiamo anche fare un'altra domanda te lo dico anche subito ti fa ma c'è voglia di iniziare a combattere sì perché di minchiate non sentite troppo basta al giorno d'oggi non ho ancora visto un ragazzo che ha un sogno nel cassetto tirando via Marvin io ti parlo una mia esperienza poi magari ci sono in giro per l'Italia io non ho ancora visto uno che viene convinto deciso e che ha in testa cosa vuole fare alla Conor McGregor stai là non li trovi più non li trovi più i ragazzi al giorno d'oggi non li trovi più ma non è neanche colpa loro cominciano e mia mamma non vuole e c'ho la scuola e c'ho il ragazzino e c'ho la ragazzina e come faccio a allenarmi tutti i giorni e chi mi mantiene e come faccio e troppe menate al giorno d'oggi troppi problemi purtroppo almeno io ho riscontrato questo in tutti i giovani tutti vorrebbero farlo ma ci sono troppi troppi ostacoli che si mettono in me ma se immaginati che dovessi trovare uno presente come Marvin cioè che arriva bello convinto però parte da zero secondo te è più importante e dovessi dedicarsi inizialmente solo a una disciplina tu inizialmente lo faresti incanalare nello striking e far sì che il suo striking diventi letteralmente perfetto e poi dopo pensiamo alla componente di lotta a terra e quella parte lì oppure lo faresti avere prima una base importante di lotta a terra quindi di grappling in generale e poi dopo inizieresti a lavorare con lui sull'aspetto dello striking ma allora ti dico la verità secondo me io prima gli farei delle buone basi in piedi quindi di striking e poi lo comincerei anche a far lottare così porta avanti tutti e due però piano piano però partiresti prima con una bella base sì partirei in piedi che secondo me tra virgolette anche la parte un po' più da prendere non dico più facile però poi la lotta parte sempre in piedi alla fine esatto anche quello è vero e quindi anche perché parliamoci chiaro anche in USE e tutto se tu noti l'80-90% è tutto in piedi perché se entrambi siamo forti anche poi nei takedown e nel proteggerci lo sappiamo entrambi quindi è quasi diventa un contratto non scritto che firmiamo in cui ci tireremo calci gomitate cazzotti sono d'accordo anche perché lo show come tutti sanno lo fai in piedi con i guantini da quattro esatto perché lotta la gente se tu noti anche adesso a questi livelli comincia a fischiare sì dopo soprattutto se fai la lotta quella statica un po' noiosa che stai fermo solo in posizione ti accontenti di vincere round stando sopra diciamo che adesso perché Khabib Style non era male però è quando ti si incollava dietro che ti prendeva il braccio da sotto e ti erano però lui dava spettacolo sempre lì invece adesso comunque anche con le nuove regole se tu vai a terra e sei passivo che non lavori ti fanno rialzare perché lo show deve continuare con i striking inizialmente delle basi e poi a implementare tutto l'aspetto della lotta a terra che poi anche li cambia però perché c'è un conto è fare il jiu jitsu un conto è essere fare grappling da MMA in cui c'è la cosa che vuoi è stare anche sopra eh sì infatti la maggior parte come fai col kimono poi non vai lontano e ti arrivano due castagne nei denti infatti fanno tanto grappling da MMA eh sì fanno tanto quello eh sì così che tra l'altro Marvin l'aspetto della lotta a terra nessuno lo butta lo butta giù a cercare che sanno che è solido al di là che è molto forte anche a terra anche se non tutti lo sanno ma è veramente forte forte a terra è anche veramente bravo da difendersi dai take down e tutto da portarlo a terra non è facile ma guarda ho difficoltà poi correggere se sbaglio a ricordarmi un match di vettori che lui ha fatto stando lui schiena a terra con qualcuno no è difficile forse qualche take down in cui però esplodeva poi andava la gabbia e si ritirava su in qualche modo clinch e poi trovava tornavano a striking ma se no per il resto ma lo sanno che è forte anche a terra quindi non tutti lo portano a terra anche perché è forte a terra anche se lui non non so perché ma ha lottato veramente poco io che lo conosco bene a terra fa veramente brutto infatti lì poi in tutti gli incontri sono sempre stati belli incontri quelli di Marvin anche da vedere perché anche lui ti sta sempre lì addosso cioè non fa mai un passo indietro è un carro armato l'unica che non mi è piaciuta troppo è stata quella con Cannonier in cui non so cosa c'era forse Cannonier quella sera però aveva un'accuratezza nei colpi che oggettivamente in quella fight cazzo ce ne ha prese troppe eh lo so lo so purtroppo lo sai lì se tu sai che era successo qualcosa così o semplicemente va così cioè sono quei cazzo di match che ti sei preparato comunque da dio va dentro e per qualche motivo le cose non girano troppo a tuo favore allora sì il problema è che magari tu prepari il match in un modo poi se magari non va proprio come vuoi tu non è facile trovare subito il rovescio della medaglia e magari nel mentre switchare ci sono dei momenti che riesci a farlo e delle volte che magari fai più fatica poi è vero ho visto tanti match di canonier lo conosco a memoria perché lo studiamo sempre l'avversario prima di di fare gli allenamenti e un canonier così in forma non l'avevo mai visto neanch'io ti dico la verità ho beccato la serata stellare poi magari tu sei in serata no tra virgolette quindi uno più uno fa sempre due eh sì però va bene va bene comunque ci sta lì ogni match ti prendi anche tu a carico poi la parte dell'analisi del fighter con cui sai che andrà a combattere sì e lì su cosa su cosa ti focalizzi cioè cerchi di captare quelle allora cerchiamo di vedere soprattutto anche i difetti dell'avversario per poi magari tendenze magari sì sì vedere quello che fa più spesso in un match così noi possiamo lavorare dall'altra parte con la nostra contromossa diciamo con le nostre con le nostre armi mettiamo a disposizione i colpi migliori che potrebbero funzionare contro questo determinato avversario ok te lo fai da solo di solito o te lo guardi direttamente con lui insieme ve lo guardate con un atleta di quel livello ti devi confrontare sia con lui che con anche il resto del team con gli altri certo dobbiamo essere se l'unione fa la forza ci si mette in più testa a guardare bravissimo abbiamo capito qualcosa di diverso bravissimo dobbiamo rimare tutti dalla stessa parte e valutare io posso vedere una cosa che l'altro non vede e viceversa e quindi come hai detto tu l'unione fa la forza siamo in tre o quattro lo vediamo ognuno dice la sua e poi decidiamo il game plan il cosiddetto la nostra strategia da utilizzare poi è muoversi poi nell'ottagono il giorno della lotta esatto 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 ho sentito il weekend prossimo UFC 300 invece Pereira contro Jamal Hill non so se hai visto che combattono ho visto sabato sera ma da striker e da coach di striking lo striking di Pereira come me lo valuti perché il problema che Pereira quello che tocca distrugge è quello il problema ha delle maniche che sono grosse probabilmente come le nostre quattro messe insieme bravo fa male fa male Pereira lo dicono tutti chi l'ha provato fa male soprattutto adesso che nella sua categoria cioè magari se scende di categoria secondo me non è più lo stesso al 185 esatto e infatti guarda adesso madonna fa paura fa paura c'è un bel time c'è un bel time poi è fisicamente anche sembra predisposto a fare la lotta è il prototipo fatto a computer perché testa grossa corporatura struttura ossea grossa ma longilinio allo stesso tempo perché ha delle leve bravi c'è un allungo che sembra che non ci arriva mai ma mi prende dal divano qua mi prende col jab e poi è grosso cioè la fine degli arti che è dove arriva l'impatto cioè anche di Connor dicevano che è una cosa che impressionava i fighter anche i ragazzi che ho avuto qua che combattono l'SBG con lui si allenano con lui dicono che le mani fan paura cioè la struttura ossea sicuramente delle mani sembra che ci sia già proprio un martello alla fine che ti colpisce quello deve avere un'influenza sicuro ma me l'ha detto anche a me che Connor fa male perché chi ha fatto sparing con lui ha detto c'ha le mani pesanti quindi immagini di con Pereira che è grosso il doppio esatto c'ha dei piedi che sono grossi così quando ti prende è un animale e poi sa cosa sta facendo anche quel cosa ne pensi adesso di nuovo calcio che si vede da un annetto a questa parte che si tira non più classico sulla coscia ma quello basso lo stanno imitando tanto il calf kick lui poi li porta dritti perché sono più veloci e più difficili da intercettare da intercettare perché anche se giri la gamba comunque non riesci a pararlo perché sempre sul muscolo ti finisco esatto perché lui va dietro e poi è molto basso e quindi fai fatica a cercarlo come si dice in gergo fa male di brutto perché ti va a prendere il muscolo e il polpaccio e fa male e poi un muscoletto piccolo quindi mentre sulla coscia ne riesce ad assorbire di più su quello lì dopo che ne hai presi 5 o 6 no ti addormenta la gamba che l'altro pazzo che lì lì tira come se non ci fossero domani è Justin Gaethy che mi fa morire lui ti viene sotto così te ne prende 40 però gli basta tirare un calcio pam e vedi proprio anche se i fighter sono duri con la poker face però lo vedi che lo accusano perché non riescono a non fare lo zoppichio al passo dopo perché fa male al momento lo senti tanto lo senti tanto anche se vuoi nasconderlo è come una vecchietta la senti subito sì sì e poi sai cos'è che anche a livello mentale dopo il tuo pensiero va a quei calci là e per l'avversario è più facile lavorare sotto sopra e cambiare il tipo di lavoro perché tu comunque dopo vuoi o non vuoi quel male non lo vuoi provare nello stesso eh allora cerchi di cerchi di difendere quel tipo di calcio e magari fai qualche errore da un'altra parte eh sì che mi viene in mente con questo discorso McGregor con Poirier ti ricordi ero lì bellissimo ero lì al palazzetto no grande voglio troppo andare anch'io a trovare l'evento giusto in cui andare la sfiga che dopo ho detto adesso caspita riesco a beccarlo alla seconda o la terza sei andato allora cioè quella non quella quando si è spaccato la gamba giusto quella prima sì quello quando si è spaccato la gamba sì sì e com'è stata lì da vedere dal vivo quella roba minchia ha cercato lì quel caspita di calcio lì gli ha spaccato gli ha spaccato la caviglia tra la caviglia e la gamba proprio ma l'evento in sé com'era vedersi Connor poi che arriva e fa il suo show com'è adrenalina tanta roba palazzetto pieno poi quando ti vedi tutta quella gente lì che grida beve birra manetta clandesi fuori di testa tanta roba ragazzi bello però in quella prima mi ricordo che invece Poirier l'ha messo KO a Connor ma sembra di braccia di braccia però gli aveva gli stava gli aveva fottuto la gamma gli aveva iniziato a colpire molto bene perché se ti ricordi vabbè ovviamente lo sai meglio di me ma quello che avevo visto è che l'approccio di Connor era molto improntato a box quindi metteva molto il peso sulla gamba davanti e Dustin ha iniziato che poi anche Dustin è una bestia poi molto intelligente come vedi poi un'esperienza ormai cioè con tutti i più forti è da 15 anni a questa parte che combatte con i top 5 è sempre sul pezzo eh sì eh sì bello bello no tanta roba UFC evento visto così con Connor sì sì ero lì chissà che si combatterà ancora anche se quando ti fai ma dicono di sì dicono però poi lo vedi sui Lamborghini Yacht il giorno prima lo vedi a Dubai in bicicletta il giorno dopo sulla Croisetta Cannes con la moglie e i figli quello dopo gli faccio Connor cioè hai vinto cioè basta cioè price fighting è come se Marvin adesso facesse 50 milioni immaginati nei prossimi due incontri quella sera cazzo basta Marvin hai fatto tutto quello che volevi fare e poi magari non ti viene neanche più lo stimolo da competitor però magari quella cintura la vuoi no cioè il pallino Marvin sì ma è un greco che l'ha già avuta non so se c'è ancora 145 e 155 basta combattuto con Mayweather pur nel ring puoi dire di aver fatto box là proprio devo anche evitarselo però i soldi fanno anche questo eh 100 milioni anch'io ti devo dire la verità mi prenderei una castagna nei primi 30 secondi da Floyd per andare giù esatto vado lì vado lì tanti denti me li rifaccio d'oro a mani nude a mani nude con questo di là mi ricostruisco come voglio io al computer mi rifaccio ascolta Max ultima domanda prima di lasciarti andare invece che mi piace sempre che la chiedo sia ai fighter ma vista anche da una prospettiva coaching secondo me è super interessante l'aspetto mentale quindi dimentica di tutte quelle che sono le skills e le capacità che uno può apprendere quali sono le cose che cerchi di più che secondo te hanno più varole a rispetto di testa per una persona che vuole intraprendere questa strada cioè lascia stare che vuole diventare campione UFC o vuole fare il boxero vuole diventare il campione di K1 alla glory cioè in generale quando intraprendi questa strada da guerriero perché alla fine cioè vai a combattere ogni volta qual è la cosa secondo te i tasselli più importanti che cerchi in uno ad allenare costanza e perseveranza stop come in ogni cosa alla fine però in questo sport ho visto ho un certo tipo di esperienza un certo tipo di età quindi l'ho vista di atleti passare avanti e indietro e ti dico che magari molti 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 partono bene ma poi si perdono è quello che li frega io conosco tanti talenti che hanno mollato per tanti motivi che sia la ragazza che sia che cambiano sport che cambiano il lavoro che si che non so per qualsiasi motivo molti talenti molti che veramente potrebbero dire la loro e arrivare in alto mollano è difficile trovare un fighter che inizia e rimanga come ha fatto Marvin cioè Marvin non ha distrazioni lui quando lui quando decide che deve fare quello fa quello mentre i ragazzi di oggi ti ripeto troppe distrazioni troppi ostacoli per loro che si mettono davanti e che non hanno voglia di fare quel passo per oltrepassare questo ostacolo questo è quello che io vedo nei ragazzi giovani vedo molti in palestra che hanno del talento hanno del potenziale ma magari non hanno la testa e la costanza la perseveranza di non hanno un obiettivo non hanno un sogno nel cassetto visto al giorno d'oggi combattono senza motivo non sanno neanche perché combattono molti poi gli dici più per imparare un po' ma neanche ma che ne so molti magari combattono perché fa figo combattono per metterlo sui social si è dato per dire guarda faccio boss si si ma non ne vedo uno che non gliene frega niente di tutto questo e dice no io ho un obiettivo devo arrivare là e se non arrivo continuerò no uno magari ce l'ha all'inizio con l'obiettivo poi dopo un po' questo obiettivo va a scemare e quindi non riuscirei mai a portarlo a termine quindi costanza e perseveranza sicuro sicuro ma è difficile la giornata possono avere tutti per qualche mese o qualche settimana però poi quello che cambia è negli up and down della vita in generale delle cose riuscire a rimanere nel mezzo sempre lì con l'obiettivo ma no è difficile c'è chi si rompe poi nella generazione d'oggi che hai tutto tutto al volo vogliamo andare a mangiare chiamo del libro ma in due secondi vogliamo questo ordino su Amazon cioè se abituano sei più abituato alla pazienza anche no a rimanere lì bravissimo bravissimo troppa bella vita tra virgolette bella vita nel senso sabato e domenica cosa fa ma io me ne vado al mare fa caldo mica vado in palestra ma che caldo sei ore in palestra a fare trazioni a fare sparring io mi ricordo i sacrifici che ha fatto Marvin perché lo seguo anche prima che aveva che poi è successo quel discorso che si è fermato per un anno e quindi un essere umano normale avrebbe mollato un essere umano normale avrebbe detto vabbè devo stare fermo un anno me la prendo con comodo lui no lui da lì ha cominciato a lavorare il doppio per arrivare dopo un anno a farsi trovare pronto e guardiamo Marvin dov'è quindi dove lo trova un altro Marvin con questa mentalità io non l'ho mai visto e ne ho girati tanti di atleti credimi me lo ricordo ero là io ero là alle 11 di sera andavamo giù nella ola ad allenarci a mezzanotte facevamo i drill nella camera tu nel 2024 conosci un ragazzo che farebbe queste cose io non l'ho trovato oh sabato ti vuoi venire ad allenare eh coach ma sabato è san valentino ah scusa ma sabato ti vuoi allenare mi coach hai la ragazza mandare al centro commerciale ma bene questo è quello che mi capita a me con le ragazze di oggi non ne ho trovato uno sabato vuoi venirti ad allenare coach ma non puoi allenarmi anche domenica ti prego mai trovato uno di questi e non è un problema economico è un problema mentale max grazie mille ma io ringrazio a te roccia grazie davvero è stato un piacere ciao a tutti ragazzi ciao avanti tutta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti